Allora, ciao, una canzone di fantasia. Da loro, da loro polverizzati, delle bombe atomi a base di germi, come quasi a calde tra la Russia e l'America, il sud e il terra nello scorso secolo, con la guerra fredda. Trovarono, scesi in terra, tre storici uomini da ruffianarsi, avendo bisogno delle cure per cimentarsi nel quotidiano, disponevano di sapienza e compazienza fu data a noi, trasmettendo la confine e patria. Ricorrendo alle peste e fusa, capaci in queste di raggiungere l'Eurekan dell'Archimede di turno. Brau, gnau, i pianeti di provenienza, dell'avanguardia tecnologica, quindi portata sulla terra. E la terra finalmente conquistata ha goduto della pace. E' dichiarata dai cani e gatti, così ottenendo scoperte scientifiche, dove l'uomo scopre vaccini antidotti, intrasmessi da loro. Ma il nemico, forse il più temuto è proprio il topo, mai mutuata con l'umana specie, con l'uomo sempre in attrito. Nel condividere un mondo pulito, il culito s'ha disforzo, tra peste nera e rischio di chi ha invasso fogne, travenendo ai principi di genere, quanto avvenne nel pianeta d'origine, chiamato Maus Grey. Brown, ericani, gnau, per i gatti, Maus Grey, per i topi, che cacofonico nome. Ciao.